Buongiorno, io sono Irene Primi e ho sempre fatto il medico di famiglia, l'ho fatto per tanti anni, veramente per 40 anni e mi sono sempre occupata anche di medicine naturali, di omeopatia. Il 2 d'agosto parteciperò ad un ciclo di conferenze sulla paura, naturalmente io parlerò di che cosa? Dalla paura delle malattie, paura delle malattie che dipende secondo me molto dalla paura dell'ignoto, cioè dalla paura di non essere in grado di gestire quello che ci troveremo davanti. Infatti io non ho paura delle malattie, io ho paura delle tasse, ho paura della legge e per questo mi rivolgo a degli esperti. La paura delle malattie poi si dilata ad ipocondria, ma qui arriviamo in una situazione più decisamente patologica ed è poi suddivisibile in paura della dipendenza, paura del deficit fisico.